Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale... Cosa stai facendo? Vuoi entrare nel cheletro? Bentornati sul canale Siamo di nuovo qui con un tag Fa caldissimo quindi Ice Cream Book Tag che ho visto Che sta girando su Instagram in questi giorni Giustamente perché è questo caldo Fa caldissimo Allora, sono otto domande Come sempre noi non mostriamo i libri perché c'è di smontare le librerie Non ne abbiamo voglia Della serie, no? Cosa fate i video a fare se siete così sfaticati? Giustamente, ma ok Dove le parole prevalgono sul... Eh sì, vabbè, stai zitto prima che fai danni Allora Question one Melone, un libro che ho già deciso di leggere quest'estate E' molto complicato perché non ho ancora pensato alla TBR Quindi direi Mercurio dell'anno Tom Più che altro perché Nella lettura del gruppo su Facebook di luglio, mi pare Tra gli autori in elenco c'è l'anno Tom Anche perché il mercurio del termometro Fa su l'estate Io invece leggerò un libro che ho da parecchio tempo La trilogia di Ape Leonard di Joe Lansdale Poi Due Menta Una serie che ti è entrata nel cuore Già? Questa cosa cozza abbastanza Perché è Menta che mi entra nel cuore? No Però vabbè Per non cadere proprio sul solito Harry Potter Sono stata su qualcosa che è molto simile Quindi Trilogia di Geno di Mooney Witcher Mi è piaciuta tantissimo Io invece direi la serie berlinese di Philip Kerr Incentrata sul poliziotto Bernie Gunther Che è ambientata durante il nazismo Purtroppo Si è fermata dopo sette volumi E ne sono usciti altri Ma non sono stati più tradotti in Italia Ecco questo è anche un accorato appello A qualche editore Che si prenda la briga di tradurre I libri di Kerr Che non sono ancora stati tradotti in italiano E ce ne sono altri tre o quattro Tre Limone Una serie difficile da digerire Io ho messo il trono di spade Perché A libera interpretazione proprio L'avevo iniziato il primo libro Se vi ricordate Qualche anno fa E mi stava anche piacendo Ma Cioè 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 Quante morti E io non ce la posso fare Perché poi io Le affezioni personagiche Quelli muoiono Le mani sono più crudele Poi come faccio E quindi vabbè Devo essere anche pronta psicologicamente Per affrontare queste cose Allora io In realtà qui avevo scritto un'altra cosa No? Però ho cambiato idea al momento Sì La serie di Ovviamente stiamo leggendo John Esbo Ambientata Cioè Ambientata in Norvegia ovviamente Mi è centrata sul personaggio di Ajoel Perché i primi romanzi erano bellissimi Bellissimi Gli ultimi Li ho proprio odiati Perché c'è sto personaggio Che ha una sorta di via cruci Se un libro perde un dito Nell'altro perde un pezzo di mandibola Nell'altro gli sparano al cervello Cioè Non è più sopportato Sembra Gesù Cristo Sto tizio Lasciatelo morire Piuttosto di tirarlo avanti così I primi romanzi ripeto Sono bellissimi Ma gli ultimi Mi hanno deluso parecchio Quattro Tirami su Un libro che ti ha fatto Ti ha fatto niente Ti ha fatto Un libro che ti ha tirato su di morale E Anche qua Libera interpretazione Io ho messo Vermere il codice segreto Perché è stato il primo libro Che sono uscita A finire dopo Una serie di Tante settimane Di blocco del lettore Cioè veramente Iniziavo e mollavo Iniziavo e mollavo Quello perlomeno È stato il primo Che sono riuscito a portare a termine Dopo Tarecchio tempo Io direi Il Bastardo Primordiale Di Tom Sharp Un libro che avevo letto anni fa Ma mi ricordo che Avevo riso come un pazzo Dall'apriere l'ultima pagina Non riuscivo neanche Non potevo leggerlo in giro Perché se no mi prenderano per pazzo Perché vedevano che Mi piegavo All'altra dalla risata Bella risata 5 Fior di latte Un classico E qui Io vado con il mio caro Pirandello Il Fumatia Pascale Io Furore di Steinbeck Che ho già citato più volte Siamo originalissimi Devo dire Con le risposte 6 Fragola Un libro con una tenera Storia D'amore Io ho messo I nostri anime di notte Anche se dire storia d'amore Non è propriamente corretto Però Sono dolcini Anche io Parlo di un libro Che ho appena letto Gente indipendente Di Harold Luxness In realtà anche qui La storia d'amore Non è proprio una storia d'amore Però Mi è rimasto impresso Molto Scusate eh Voglio C'ho sonno Poi 7 Cioccolato Un libro di cui aspetto il seguito Allora Tra lasciato il fatto Che io vorrei I prequel Sui malandrini E Vabbè Carazia Joseph Se gentilmente Ma Sì Lascia Per Direi che Attendo Più che il seguito Lo spin off Della serie di Half Bed Half Wild Half Lost Che è Che è Non me lo ricordo Perfetto Io veramente Io invece Comunque In spagnolo È tipo Il lato oscuro Qualcosa del genere Io essendo invece Un fan sfegatato Di Michael Connelly Ho già 28 romanzi Aspetto Comanze Il 29esimo Che deve uscire Prima o poi Ultima Domanda Ultimo punto Caffè Un libro che ti ha fatto Stare sveglio di notte Direi non quello Che sto leggendo In questi giorni Comunque Una gabbia di stelle Come vi avevo già detto A suo tempo Avevo fatto tipo Lettre di notte Perché dovevo Sapere subito Come andavo Infatti non dorme di notte E poi sbaglia Durante i video E vabbè Invece L'ho già detto Altre volte I pilastri della terra Di Ken Ford Ne ho letto più di metà In una notte intera Perché ti dicevo Ancora dieci pagi Ancora dieci pagi Ancora dieci pagi Però ho finito Anche sei del mattino Ho passato una notte insonne A leggere questo libro Davvero trascinante Vabbè Noi andiamo a registrare Un altro video In cui sbaglierò Probabilmente anche lì E Ci vediamo alla prossima Ciao Poi anche saluta Ciao